Oggi sempre di più per le esigenze del mercato nel consumo è necessario controllare la filiera dei prodotti nei nostri supermercati. Io rappresento una piccola parte di distribuzione dei supermercati nel sud del gruppo PAM e oggi sempre più noi dobbiamo seguire tutta la filiera dal consumo fino alla produzione. Naturalmente oggi qua in questo convegno è necessario anche contribuire con dei prodotti sicuramente che sappiano controllare bene il prodotto sia dal seme fino al consumo che naturalmente andrà in tutte le nostre case dei consumatori del sud. Rappresentando un gruppo del sud cerchiamo di valorizzare sempre di più il prodotto del sud perché il prodotto del sud sempre più in tutto il resto dell'Europa sta prendendo mercato per la sua qualità. Naturalmente faccio un piccolo anche accenno anche sulla redditività che può dare sia ai produttori un prodotto controllato. Naturalmente noi supermercati dove siamo molto attenti alla debibilità dei prodotti se ben seguito dalla produzione quindi un prodotto che sia sempre sano e che non abbia delle difformità nell'esposizione del prodotto può dare sia dei risultati positivi alla grande distribuzione ai supermercati e sicuramente al produttore ricavare anche più reddito. E' quello che oggi cerchiamo di fare è seguire il prodotto non più nella vecchia tendenza del mercato quindi che si trova di fronte a un prodotto che non sa l'origine di questo prodotto. Quindi cercheremo di vendere il prodotto in Puglia e seguendo una filiera.